Volevo dire solo una cosa, uno poi alla fine può pensare vabbè ma ragazzi non è che ve l'ho ordinato il dottore di fare le atlete o di fare gli atleti, fate un'altra roba invece quello che noi ci dobbiamo ricordare sempre è che fare sport in una nazione è un parametro di civiltà i paesi sotto le dittature, lo sport, non lo fanno anzi li ammazzano e ricordiamoci anche che una come lei che ha vinto una 22 di medaglia d'oro, tra l'altro uno dei pochi casi al mondo perché in genere se ne vince uno è già tanto è commendatrice della Repubblica cioè ha un valore per lo Stato italiano riconoscere rispetto allo sport e questo rispetto comporta che il sistema sportivo cioè coni e federazioni non possono essere un sistema feudale, autoreferenziale e anarchico soltanto perché sotto il fascismo qualcuno aveva pensato che lo sport era la sua macchina da guerra e di propaganda è cambiato il mondo, siamo in un'altra situazione basta cioè lo Stato eserciti quel dovere di vigilanza previsto dalle leggi che deve essere esercitato dal Ministero dello Sport intervenite perché se tre mesi fa un atleta di pallacanestro di Serie A1 dice a un nostro convegno in realtà erano dieci mesi fa ma il furore mi ha preso dice a un nostro convegno sapete che cosa ci dicono i procuratori quando ci trovano squadra noi giocatrici di Serie A1 e vi faccio notare che le donne sono direttanti invece da uno maschile di basket e professionista ci dicono due cose non devi fare finire in galera e restare incinta ma a voi sembra normale? a me non sembra normale a me sembra vergognoso e il punto, vi aggiungo anche questo perché sono contenta che ci siano tanti ragazzi questa non è una battaglia femminista di uomini e donne di cui siamo molto fieri il punto veramente grave non è soltanto che ci sia una sottovalutazione delle donne il rispetto delle atlete è che c'è una grandissima mancanza di rispetto nei confronti di tutti noi perché chiunque di noi penso abbia giuito davanti a un risultato sportivo di un atleta donna bene, oggi noi dobbiamo sopportare che un dirigente presidente della Lega Nazionale di Lettanti parli delle calciatrici dicendo queste quattro lesbiche o dobbiamo pensare che un direttore e qui veramente mi verrebbe di dire parolacce che poi è stato reintegrato definisca delle ragazze che sfiorano il bronzo olimpico quattro cicciottelle ma che razza di paese siamo questa è vergogna allo stato puro e quindi vorrei dire che le iniziative come queste grazie per essere stati qui sì è vero io sono social perché Facebook per noi è tutta l'attività multimediale a costo zero per noi è stata una cosa importantissima perché Assist non ha i soldi io non sono una persona ricca e probabilmente non lo sarò mai visto le cose che dico non abbiamo i fondi per farci la propaganda sui giornali, pubblicità eccetera noi viviamo con i social network e quindi lì facciamo sentire la nostra voce per cui ci auguriamo che questo convegno possa aiutarvi anche a raccontare quello che avete sentito e magari a pretendere dai vostri amministratori locali che operino la parità di genere sempre a una maratona a Trento e lo dico per Tonella scherzo perché c'era anche lei nella maratona gli uomini corrono la stessa distanza delle donne sono 42,195,92 metri corrono la stessa distanza non è un problema di budget di quanti atleti ci sono di quanti atleti o di quanti sponsor ci sono il podio il podio in tutto il mondo il CIO chiede che sia trattato nella stessa maniera la mia fatica vale la tua lì poi corrono anche la stessa misura quindi non si spiegava perché questo accadeva sei anni fa circa agli uomini venisse dato 1.500 euro per il primo premio e a cascata seconda e terza erano tipo 1.500 alle donne esattamente la metà sapete chi dava i soldi per quella manifestazione? l'assessorato allo sport e alle pari opportunità